ciao ragazzi e bentrovati allora eccoci con un vlog per parlare un po' dei prossimi video il primo punto riguarda il video speciale per i 20.000 iscritti allora il canale non è ancora arrivato a 20.000 iscritti ma sta crescendo velocemente quindi mi sono portato avanti con questo piccolo progetto che sembra semplice ma vi assicuro che non lo è stato va bene allora niente siccome il canale da dicembre ha avuto una crescita veramente veramente ottima quindi non devo fare altro che ringraziare voi per questo perché siete voi che fate crescere con il vostro supporto le vostre visualizzazioni in questo canale ho voluto appunto dedicare un video speciale che sarebbe appunto questo progetto vi do un'anteprima solo questo perché il resto lo vedrete appunto nel video come vedete è ancora uno spinner led però con delle delle altre capacità che poi vedremo allora niente appunto questo video sarà subito dopo questo vlog quindi non mancate a questo speciale 20.000 iscritti il secondo punto riguarda un giveaway il primo che faccio da quando ho cominciato a postare i video su questo canale allora in questo giveaway ci saranno tre premi ora il primo punto sarà quello dello speciale 20.000 iscritti questo il secondo sarà il led spinner che ha avuto un ottimo successo quasi 800.000 visualizzazioni quindi una cosa da non credere per me è il video molto più visto di tutti fino adesso quindi se siete interessati questo è il led spinner che sarà dato al secondo classificato al secondo classificato andrà lo schiaccianoci che ho fatto nei tre semplici progetti fai da te questo è il video andate a vederlo se vi interessa per quanto riguarda il regolamento del giveaway sono quattro semplici cose da fare ora il primo è iscrivervi al canale quindi se non l'avete già fatto fatelo ora quindi vi portate avanti mettere mi piace al video del giveaway commentare e iscrivervi alla pagina facebook dei gp fai da te di ai ora niente vi lascio vi lascerò comunque tutto il regolamento nel video del giveaway quindi non preoccupatevi sono quattro cose semplicissime da fare bene le estrazioni verranno fatte dopo credo due o tre settimane comunque adesso deciderò quando sarà la scadenza appunto di questo giveaway diretta e lo dirò direttamente nel video il terzo punto che rimane a questo blog invece sono i saluti che devo fare a delle persone che me l'hanno chiesto su instagram se volete essere salutati nel prossimo blog o nella prossima sponsorizzazione seguitemi su instagram e con un messaggio privato scrivetemi salutami e il vostro nome o il nome che volete che venga vedetto quando sarete salutati allora da salutare c'è l'elettricista pazzo semi torrisi davide fai da te nicola taddei volini vittorio marco santoro matte luis matteo pozzoli e mattia 2001 ciao ragazzi e grazie per il supporto bene grazie a tutti e ci vediamo allo speciale 20.000 iscritti ciao ragazzi a presto ciao 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 Grazie a tutti.